Il leader della Lega Matteo Salvini stamattina in visita al cara di Mineo. Ferrovia il 25 marzo, sciopero di otto ore, manifestazione unitaria regionale a Messina. Terzo trofeo del mare ad aspra vittoria di Vincenzo Agnello. Buonasera e ben trovati all'edizione di Media News di lunedì 16 marzo. Il leader della Lega Matteo Salvini stamattina in visita al cara di Mineo per un blitz davanti alla struttura d'accoglienza per immigrati. Andrebbe chiuso subito a detto via Renzi e Alfano. Vediamo. Matteo Salvini, leader della Lega, stamattina è stato in visita al cara di Mineo, il più grande centro europeo d'accoglienza riservato ai migranti, finito sotto la lente di ingrandimento della magistratura e dell'autorità anticorruzione. Ad attenderlo una schiera di giornalisti, un gruppo di contestatori e anche alcuni militanti locali del movimento Noi con Salvini. Renzi e Alfano si dovrebbero dimettere, ha detto Salvini al suo arrivo, facendo riferimento all'inchiesta sull'appalto per la gestione della struttura in provincia di Catania. O Renzi smentisce le indagini o si dimette, lui ha proseguito, perché di Alfano e dei suoi amici mi interessa poco. È Renzi che deve rispondere personalmente di questa cosa. Vogliamo sapere come vengono spesi 150 milioni di euro di denaro pubblico che servono per mantenere gente che sta giocando a pallone. Io sono già venuto qua ed è la terza volta, ha giunto il leader del Carroccio, che ancora una volta stamattina ha chiesto la chiusura della struttura ed ha detto che non è normale che la Sicilia, che ha un tasso di disoccupazione altissimo, faccia arricchire qualcuno con il business dell'immigrazione. Ma qual è allora la strada per risolvere il problema degli sbarchi? Di sicuro, secondo Salvini, non è quella dei dispositivi Triton e Mare Nostrum, che sono delle porcherie, ha detto, e stanno cercando di sostituire popoli con altri popoli. L'esponente della Lega è poi entrato nella struttura per la visita, un sopralluogo durato circa 45 minuti. Davanti al Cara c'erano anche i consiglieri comunali NCD di Mineo, che hanno sventolato mutande verdi per protesta. Salvini non può venire qui a parlare male della Sicilia, hanno detto Il Cara è una risorsa e non abbiamo mai avuto problemi con gli immigrati. Su proposta del sindaco di Palermo, Leolio Corlando, è stata approvata la Mobilità Umana Internazionale, Carta di Palermo 2015, per l'abolizione del permesso di soggiorno e per l'approvazione delle modifiche radicali alla legge sulla cittadinanza, in modo che si vada verso un allargamento dei diritti degli esseri umani. Questo è un giorno storico per la nostra città, ha detto il sindaco Orlando, è tempo che anche l'Unione Europea promuova l'abolizione del permesso di soggiorno, sollecitando la Comunità Mondiale al riconoscimento della mobilità di tutti gli esseri umani come un diritto non soltanto al suo interno. Ferrovie, domani il direttivo Fit Cisle sul futuro del servizio in Sicilia e sulla vertenza del traghettamento dello stretto. Il 25 marzo, sciopero di ottore, manifestazione unitaria regionale a Messina. Vediamo. Il futuro delle ferrovie in Sicilia, con i continui disservizi patiti dai viaggiatori, la vertenza del traghettamento dello stretto contro il taglio dei treni a lunga percorrenza, e merci in vista dello sciopero di otto ore, proclamato per il posto il 25 marzo, è la grande manifestazione che si darà lo stesso giorno a Messina, alle 9.30, nella sede della Prefettura. Saranno i temi principali al centro del direttivo regionale dei lavoratori delle ferrovie della Fit Cisle, che si riunirà domani a Palermo, nella sede della Federazione Trasporti. Sarà un'occasione per fare il punto delle iniziative dei sindacati, a partire proprio dalla manifestazione unitaria, di giorno 25 alle 9.30, alla quale prenderanno parte oltre 800 manifestanti, contro i tagli dei treni a lunga percorrenza e merci, e la riduzione dei servizi di traghettamento sullo stretto, ribadiscono Filt Cigelle, Fit Cisle, Will Trasporti, Fast Ferrovie e UGL Trasporti. Lo stesso giorno, subito dopo la manifestazione, alle 11 si riunirà l'Assemblea dei lavoratori delle ferrovie e dell'indotto di tutta la Sicilia, presso il Palacultura, estesa tutta la cittadinanza e i comitati pendolari, che vedrà gli interventi dei segretari confederali di categoria regionali e provinciali. Sono stati arrestati a Palermo i responsabili della sparatoria avvenuta lo scorso primo ottobre nel mercato orionale del quartiere Ceppe. In Manette sono finiti 5 fratelli. La polizia e i carabinieri hanno arrestato 5 persone ritenute responsabili della sparatoria avvenuta il primo ottobre scorso nel mercato orionale del quartiere Ceppe a Palermo. In Manette i fratelli Marra, ovvero tutti gli uomini della famiglia accusati dell'omicidio di Maurizio Quartararo e del tentato omicidio del fratello Umberto, oltre che del ferimento di una donna che si trovava a passare. Il conflitto a fuoco, infatti, si svolse in pieda mattina tra decine di persone. La malcapitata raggiunta da un proiettile vagante rimase ferita ad una gamba. Gli arrestati sono Lorenzo, 40 anni, Marcello, 36, Enrico, 34, Salvatore Emanuele, 24 anni ed Alfredo, 28 anni, al quale sono stati concessi gli arresti domiciliari. I cinque sono stati accusati dalla sorella che si è decisa a raccontare l'intera vicenda. Secondo quanto raccontato, l'agguato sarebbe da ricondurre ad una lite tra due nuclei familiari avvenuta proprio all'alba del primo ottobre e cioè poco prima dell'apertura del mercatino. I giovani si sarebbero sentiti fortemente offesi, avrebbero così deciso di impugnare pistole calibro 38 e sarebbero scesi tra le bancarelle per uccidere i fratelli Marra nella loro bancarella di Meloni. Due famiglie numerose, genitori e sette figli Marra, madre vedova e sei figli Quartararo. Alla base di tutto un odio atavico cresciuto in 15 anni, storie di litigi per offese banali, minacce continue e propositi di vendetta. Un forte vento di scirocco sta soffiando su Palermo e sulla Sicilia occidentale creando numerosi disagi. Una decina di grossi arbusti sono a rischio caduta all'interno del parco della Favorita mentre due grossi rami si sono spezzati finendo sulla carreggiata in via dei Cantieri. Alberi caduti anche a Corleone, Termini Merese, Misilmeri e Lercara Friddi, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per cartelloni divelti. Un corteo a Bagheria per accompagnare Don Claudio Grasso alla celebrazione della sua prima messa. Ordinato sabato pomeriggio alla Cattedrale di Palermo, Claudio Antonio Grasso, 34 anni, bagherese, ha celebrato ieri la sua prima messa da sacerdote. Il nuovo presbitro ha raggiunto la chiesa dopo aver attraversato il corso Umberto a piedi, partendo da Villa Palagonia, accompagnato da amici e parenti, affiancato dai genitori Pino e Grazia. Alla celebrazione hanno partecipato anche il sindaco di Bagheria, Patrizio V, il presidente del Consiglio Comunale, Claudio Clemente. La prima celebrazione ha avuto luogo alla chiesa del Santo Sepolcro, che è la parrocchia dalla quale proviene, anche se da tempo Don Claudio è stato destinato alla parrocchia di Santa Tanasio a Ficarazzi, dove continuerà la sua attività. Nella sua omelia ha ricordato molte persone che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo importante, tra cui padre Domenico Buttitta, colui che lo ha battezzato, e la zia Mariolina, scomparsa due anni fa. Da ragazza ha maturato una forte esperienza formativa, fra i deoniani nell'Italia centrale, dove è iniziato il suo percorso formativo. Don Claudio è figlio del giornalista Pino Grasso e nipote del collega Martino Grasso. A tutta la famiglia sono andati gli auguri del comune di Bagheria, e a Don Claudio in particolare per il compito importante che lo aspetta. In occasione della giornata mondiale del Rene si sono svolte ieri a Bagheria visite ed esami diagnostici gratuiti per le patologie renali. Domani in corso Umberto I, presente con uno stand dell'ambulatorio Diba SRL di Via Dante. Negli anni passati questa esperienza si è svolta prevalentemente nelle altre città, tra cui Palermo, in piazza Politeama e in alcuni casi anche nelle scuole. Questo è il primo anno che abbiamo deciso di portare pure a Bagheria questa nostra esperienza. Stiamo maturando l'idea che spesso e volentieri nei nostri ambulatori arrivano troppo tardi i pazienti, quando già il danno renale è in fase avanzata e in cui non possiamo fare più molto. Quindi un'adeguata prevenzione, anche con un semplice esame delle urine, che è un esame di poco costo, non invasivo, che può essere svolto da tutti, anche da chi sta bene almeno una volta all'anno, ci permette già di fare prevenzione in quella fetta di popolazione che effettivamente non pensava di avere nessun tipo di problemi. Ebbene sia la prima esperienza che noi facciamo per far conoscere... Di fuori delle vostre mura. Di fuori delle nostre mura, farci conoscere. Sono veramente orgoglioso di portare e sensibilizzare la cittadinanza di Bagheria, che esiste anche a Bagheria da 28 anni, un centro all'avanguardia, che si occupa non solo della terapia dialitica, ma si occupa molto di prevenzione della malattia renale, con dei professionisti che hanno un'esperienza trentennale sul campo e che possono sicuramente portare dei benefici alla cittadinanza. Noi ci siamo fatti semplicemente strumento al servizio delle energie positive che operano nell'ambito, appunto, in questo caso sanitario. La prevenzione, secondo noi, è ciò che va curata maggiormente dal punto di vista sanitario affinché si prevengano, appunto, in questo caso disturbi renali e di ipertensione arteriosa. Quindi noi, come amministrazione, intanto ringraziamo la Dibba, che si è fatta promotrice di questa giornata di prevenzione, appunto, offrendo gratuitamente il loro servizio ai cittadini bagheresi. Quindi per questo diciamo semplicemente grazie. L'amministrazione ha fatto semplicemente il suo dovere. Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, ha firmato un'ordinanza urgente per prorogare la chiusura della scuola Cirrincione e chiudere anche la scuola Bagnera. Per quest'ultima scuola l'ordinanza è scattata, a seguito della richiesta da parte della dirigente scolastica, Rosalba Bono, di eseguire tutta una serie di controlli sulla sicurezza dell'edificio. L'ordinanza prevede per entrambe le scuole la chiusura per tre giorni. Considerando che giovedì, 19 marzo, è la festa patronale e che a seguire è previsto un ponte, gli studenti potranno tornare a scuola presumibilmente lunedì 23 marzo. Terzo trofeo del mare ad aspra vittoria di Vincenzo Agnello, che dedica il suo successo alla mamma prematuramente scomparsa. Tra le donne vittoria in casa per la giovanissima Barbara Vassallo. Vittoria con dedica speciale per Vincenzo Agnello al terzo trofeo del mare, gara podistica che si è disputata ieri ad aspra. L'atleta di Misilmeri in forza al casone Noceto Parba ha tagliato in solitaria il traguardo dedicando la sua vittoria alla mamma scomparsa prematuramente appena una decina di giorni fa. Dieci chilometri tirati su un percorso scorrevole rallentato solo da qualche folata di vento. Secondo classificato Vincenzo Puccio, terzo Filippolo Piccolo. Tra le donne ancora un successo per gli atleti del professore Ticali, grazie alla giovanissima Barbara Vassallo della Polisportiva Atletica Bageria. Ben 625 gli atleti giunti al traguardo, numero che la dice lunga, sul successo della manifestazione di Aspra, che è stata letteralmente presa d'assalto sin dalle prime ore del mattino, non solo dai podisti ed accompagnatori, ma anche da una folla di curiosi e attenti spettatori. Non solo corsa, ma anche spettacoli di zumba, simulazioni in barca a vela, una mostra di sculture, esposizioni di prodotti locali, un mini concerto del violinista Mario Renzi. Tutto questo e tanto altro ancora nel Trofeo del Mare, che a dire del suo ideatore ed organizzatore Tommaso Ticali, il prossimo anno potrebbe vestirsi di una valenza internazionale. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Come sempre appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie per la visione!